Si torna alle origini, ma in una nuova location. Dal 12 al 16 agosto sarà di nuovo il tempo di birra d'augusto, la manifestazione fanese organizzata dall'associazione Fortuna Dea che unisce le migliori birre artigianali alla buona cucina e alla musica dal vivo. Il covid aveva costretto a un cambio di format. Dopo due edizioni vissute in sinergia con i locali del centro, si torna ora all'idea iniziale, ovvero alla creazione di un piccolo grande villaggio della birra e dell'intrattenimento musicale. Non più al pincio però, tutto aveva infatti avuto origine sotto l'occhio vigile di Cesare Ottaviano Augusto. Quest'anno però ci si sposterà nei pressi della Rocca Malatestiana. Quest'anno abbiamo cambiato location per dare prevalenza a un altro punto storico di prevalenza culturale comunque della nostra città. Ritorniamo alla vecchia struttura con 12 birrifici artigianali di cui 8 del nostro territorio regionale, 7 di questi sono tutti della nostra provincia, abbiamo 7 stand del food, un ricco programma culturale tutto all'insegna della birra artigianale sul mondo dei nostri birrifici artigianali. Due concerti ogni sera tra cover band e tanto rock. Tra le novità anche i cooking show a cura dello chef Antonio Bedini e un'idea per i nostri amici a quattro zampe, la birra per cani. Quest'anno portiamo anche questo, il concept è quello di un momento in cui il padrone porta in giro il suo cane allo sgambatoio a fare una passeggiata tranquilla, si ferma a fare una birra e anche la birra da compagno per il cane che altro non è che una sostanza multivitaminica quindi senza alcolici, senza lupolo, dal colore giallo classificata come birra per i cani, questa sarà una delle novità. Ma la birra non è soltanto una bevanda o una banale scusa per fare serata, lo sanno bene gli organizzatori dell'evento che hanno deciso di puntare forte anche sull'aspetto culturale. Ho ideato due momenti culturali che apriranno e chiuderanno la manifestazione, quindi il 12 e il 16. Il 12 ci sarà un evento che si chiama Augustus Fest, quindi richiamo un po' l'October Fest ma anche le birre d'Augusto dove farò una breve carrellata sulla storia e gli stili delle birre. Mi avvalgo della collaborazione di una socia che si chiama Vederica Russo e una birra sommelier e quindi facciamo questo breve, questo breve tuffo nella storia e negli stili con una degustazione di quattro birre artigianali dei birrifici presenti, quindi diciamo un modo anche per valorizzare i loro prodotti. Invece il 16 ci sarà Sorsi Diversi che è un format dell'associazione delle donne della birra ideato in collaborazione con degli stili letterari, quindi a ogni stile birrario con delle letture tratti da brani letterari che non sempre o necessariamente parlano della birra, ma parlano dello stile, quindi delle sensazioni e delle emozioni che richiama quell'assaggio, quella degustazione. Birra d'Augusto è dunque pronta ad aglietare fanesi e turisti, confermando di essere una costante nel cartellone estivo della città della fortuna. Sì, rimane una costante, negli ultimi anni sicuramente un bel progetto che sta crescendo innanzitutto perché valorizza i birrifici del nostro territorio, una bella collaborazione insomma con altre città che tendono a valorizzare proprio questo tipo di produzione e cade in un momento come quello della piena estate, quindi un momento di Ferragosto dove tanti turisti sono nella nostra città e quindi un momento di vivacità, di la possibilità di passare delle serate nel nome della bella musica, dell'allegria, della bella gastronomia e quindi di trovare, di mostrare una città accogliente come lo è Fanno in questi ultimi anni.